Buongiorno dal TG6 in apertura il blitz dei carabinieri in corso nella sede della giunta della regione Abruzzo. I carabinieri si trovano a Palazzo Silone all'Aquila ed è in atto un sequestro di documenti relativi alla gara per l'affidamento della ricostruzione di Palazzo Centi, la sede della presidenza nel centro storico del capoluogo, resa inagibile dal terremoto del 6 aprile 2009. I militari, secondo quanto ha preso, hanno occupato l'intero settore patrimonio e dopo un lunghissimo iter nei mesi scorsi la gara per l'appalto pubblico da 13 milioni di euro è stata giudicata alla ditta Edil Costruzioni Generali, SRL di Isernia. Nel dettaglio sono più di 20 carabinieri impegnati nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria e secondo quanto ha preso la mole di documenti sequestrati per essere esaminati dagli inquirente sarebbe copiosa. L'appalto pubblico da 13 milioni di euro contraddistinto da molte lungaggini, qui hanno preso parte 29 grandi imprese edili, è stata giudicata proprio dalla Edil Costruzioni di Isernia con un ribasso del 35,017%. E nei giorni scorsi l'amministrazione aveva dato l'ok alla congruità degli atti di gara, compreso il ribasso stesso. E subito è arrivata anche la dichiarazione del governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha detto Mi dichiaro totalmente estraneo alle vicende e auspico una loro rapidissima definizione. Così il presidente in una nota in merito al sequestro da parte dei carabinieri. Nella mattina di oggi, riferisce poi nella nota ad Alfonso, sono stati comunicati atti di proroga di indagini penali che vanno avanti dal novembre 2015 con rinnovi semestrali. Gli argomenti per i quali sono state individuate ipotesi di reato sono il cantiere dei lavori di Palazzo Centi all'Aquila, un intervento non ancora precisato riguardante la città di Penne, interventi al momento solo quantificati, ipotizzati come priorità a seguito di illegittime pressioni e denunce dei cittadini, di rigenerazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle case popolari in via Caduti per servizio in via Salaravecchia a Pescara. Restiamo all'Aquila dove questa mattina visita a sorpresa del vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio per la consegna di una turbina del costo di 220 mila euro consegnata proprio alla protezione civile abruzzese ed acquistata grazie ai tagli delle indennità dei consiglieri regionali. Per noi c'era Filippo Tronca, vediamo. Una fresa spazzaneve dal costo di 220 mila euro acquistata e donata alla protezione civile dell'Aquila con parte dei fondi risparmiati dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle grazie al dimezzamento volontario delle loro indennità. A presenziare alla consegna è arrivato anche il vicepresidente della Camera e candidato premier in pectore dei pentastellati Luigi Di Maio. Qui hanno investito in microcredito i nostri consiglieri regionali nella prima fase e adesso in una turbina, quindi nella sicurezza dei cittadini. Nella vita molto spesso può capitare di salvare vite con un mezzo del genere. Noi non chiediamo nessun grazie perché questi sono soldi delle vostre tasse che noi riteniamo eccessivi negli stipendi dei consiglieri regionali, negli stipendi dei parlamentari. Quindi questo è un atto dovuto al popolo italiano. Ricordatevi che il costo di questa turbina la Camera lo utilizza in un anno per pagare la polizza assicurativa ai parlamentari per le punture d'insetto o le insolazioni. Incalzato dalla stampa Di Maio non ha voluto dire nullo quasi sulle note vicende romane ovvero sulla terza polizza dell'ex capo della segreteria politica Raffaele Marra intestata alla sindaca Virginia Raggi sulla megalottizzazione dello stadio della Roma e dell'addio tra i veleni dell'assessore Paolo Berdini. Parliamo d'altro per un giorno implorato. Parliamo ad esempio della necessità di andare subito ad elezioni per cambiare questo paese e delle cose davvero serie, ad esempio dello scandalo rivelato da un'inchiesta giornalistica del settimanale L'Espresso secondo cui il tesoro italiano ha sottoscritto da una decina d'anni a questa parte titoli derivati costati 23,5 miliardi di euro ai contribuenti e andati a finire nelle tasche delle banche speculative di Mezzomondo. Il tema dei derivati si collega molto a quello che diciamo noi oggi è come si sono usati i soldi dei cittadini in tutti questi anni. Qualcuno è andato a giocare in borsa con le nostre tasse. Io ricordo che i cittadini italiani pagano le tasse più alte del mondo industrializzato dovrebbero avere le strade lastricate d'oro e invece una parte dei loro soldi sono finiti in delle scommesse bancarie andate male sulle quali metteremo mano dopo le prossime elezioni politiche sicuramente. I nostri colleghi della Commissione Finanze avevano provato a metterci mano tante volte qui c'è anche Giorgio Soria della Commissione Bilancio abbiamo provato ad accedere a quegli atti tante volte un'inchiesta preziosa quella sui derivati che ci apre tutto un mondo di come si sono spesi i soldi in questi anni. Io ricordo che al Comune di Napoli ai tempi della Iervolino quando governava il PD c'era l'ufficio Finanza Creativa. E allora adesso andiamo in collegamento al Poggio degli Olivi a Pescara dove la notizia quella di oggi è proprio quella dell'ok. torna Zenec Zeman quelle che state vedendo sono le immagini del tecnico che si trova al Poggio degli Olivi e in questo momento sta incontrando la squadra la notizia di ieri era quella di una pausa che si era presa il tecnico. domani io non riesco a fare interviste così se va tutto bene domani dopo l'allenamento parliamo se no domani grazie Paolo so Francesca se mi ascolti si facciamo una ricostruzione di quelle che sono state le ultime 24 ore Sì grazie ti chiedo scusa per il fiatone perché ovviamente c'è stato l'arrivo a sorpresa all'improvviso del presidente Sebastiani assieme al tecnico Zenec Zeman abbiamo potuto ascoltare in diretto e allora proveremo a ricollegarci con Paolo Lorenzetti insomma intanto si è visto l'arrivo di Zeman al Poggio degli Olivi tra poco noi proveremo a ricollegarci nel frattempo continuiamo a parlare dei danni del maltempo perché nelle ultime ore è arrivata un'ordinanza da parte della protezione civile che mette il governatore d'Abruzzo a capo di quello che dovrà essere il resoconto dei danni che non fanno parte del terremoto ma proprio dovuti dal maltempo e nel frattempo anche il sottosegretario alla presidenza della regione Mario Mazzocca chiede che vengano stanziati dei fondi proprio per tutti i comuni costieri per i danni sempre del maltempo vediamo l'Abruzzo chiede di più chiede di più al governo che in prima battuta aveva stanziato fondi dedicati esclusivamente ai danni causati dal terremoto ma l'Abruzzo è stato ferito anche da un'ondata di maltempo eccezionale che continua proprio in questi giorni a spaccare il territorio dopo la nevicata che ha isolato per molti giorni intere comunità l'emergenza ora è quella delle frane che hanno investito già la provincia di Pescara con quella di Penne il centro di Chieti con le due voragini che hanno spaccato la città il centro di Teramo e anche la sua provincia con il caso della collina di Ponzano che ha richiesto lo sgombro di 24 abitazioni proprio ieri è arrivato l'atto che ha conferito al governatore D'Alfonso il compito di quantificare tutti i danni da risarcire nelle aree fuori cratere grazie ad un'ordinanza ad hoc per l'Abruzzo firmata dal capo del dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio nel frattempo a rivolgersi al governo e anche il sottosegretario alla presidenza della regione Mario Mazzocca che ha provveduto ad inviare al presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni congiuntamente a Curcio la richiesta di uno stanziamento di specifiche risorse economiche pari a un milione e mezzo di euro da destinare ai comuni interessati dai rifiuti spiaggiati a causa delle mareggiate causate proprio dall'ondata eccezionale di maltempo si tratta di rilevanti quantitativi che mettono in crisi i comuni costieri costretti a stanziare grosse somme di denaro per poter ripristinare le spiagge e preparare una stagione balneare già complicata come nel caso di Pescara inquinata dal fiume tanti fronti sui quali intervenire per rimettere in piedi una regione divenuta il centro di una serie di avversità che oggi spaventa amministratori e cittadini una lunga battaglia che prosegue per intervenire in tempi celeri e ripristinare territorio e soprattutto la sua economia e allora ci ricolleghiamo con il Poggio degli Olivi dove c'è Paolo Lorenzetti l'abbiamo visto all'arrivo di Zenec Zeman dopo un'attesa Paolo la ricostruzione di quella che è stata la mattinata e della notizia poi Sì certo grazie allora riprendiamo la linea Queen diretta dal Poggio degli Olivi è arrivato alle 14.03 Zenec Zenam assieme al presidente del Pescara Daniele Sebastiani abbiamo dovuto fare davvero una corsa da centrometristi per riuscire a raggiungere l'auto da cui sono scesi il patronne Biancazzurro e l'allenatore Boemo ha detto Zeman in quelle due parole che siamo riusciti a raccogliere perché ovviamente Zeman già parla poco in questa circostanza ovviamente non poteva dire molto di più dicevo ha detto dobbiamo parlare, dobbiamo vedere se andrà tutto bene domani sarò l'allenatore del Pescara ma è chiaro che se Zeman è venuto da Roma a Pescara evidentemente ormai è tutto chiaro diciamo tutto più o meno risolto bisognerà mettere il classico nero su bianco limare qualcosa a livello economico ma diciamo non ci dovrebbero essere ovviamente problemi anche perché Zeman è venuto oggi al Poggio degli Olivi assisterà all'allenamento del Pescara o per meglio dire all'amichevole che i biancazzurri giocheranno con la formazione allievi e poi ovviamente ci sarà l'incontro con il presidente per chiudere l'accordo prima di ascoltare Andrea Costantini che è al mio fianco mi dicevi e mi chiedevi della cronistoria della giornata io partirei dalla giornata di ieri perché ieri mattina a Roma c'era stato l'incontro a sorpresa tra il presidente Sebastiani, Zeman, Pepino Pavone direttore sportivo e Cangelosi il vice storico di Zedek Zeman un incontro molto positivo anche se nel pomeriggio probabilmente anche per non caricare di eccessivi entusiasmi l'ambiente era stata fatta traparare la notizia che comunque ci si sarebbe dovuti rivedere per trovare un accordo e che probabilmente Zeman avrebbe preferito allenare il Pescara dalla prossima stagione e invece evidentemente non era così perché l'incontro era andato molto bene questa mattina la partenza di Zeman proprio tardissima mattinata per Pescara il pranzo fino a pochi minuti fa in un noto ristorante pranzo rigorosamente a base di pesce in un noto ristorante del centro cittadino e l'arrivo, lo ripetiamo, alle 14.03 qui al Poggio degli Ulivi con il presidente Sebastiani in un'altra macchina c'erano i due direttori del Pescara Luca Leone e Peppino Pavone il grande tessitore di questa trattativa oltre a Cangelosi che è il vice di Zeman che era il suo secondo anche nella prima avventura pescarese del tecnico Boemo Andrea, allora è stato già tanto riuscire ad aver regalato ai nostri telespettatori l'arrivo di Zeman qui al Poggio e le prime parole del tecnico che ha detto dobbiamo parlare se tutto andrà bene da domani sarò l'allenatore del Pescara sì, peraltro sulla nostra pagina Facebook sono già pubblicate le prime foto dell'arrivo con le prime dichiarazioni che si è riuscito a strappare è chiaro che il più è fatto bisogna limare probabilmente qualcosa va rivisto per l'ingaggio per la prossima stagione quando Zeman quasi certamente in Serie B dovrà ridisegnare il progetto tecnico insieme in particolare al DS Peppino Pavone che comincerà ad assumere un ruolo di maggior primo piano rispetto a quanto fatto nelle ultime due stagioni probabilmente l'offerta fatta dal Pescara questi 400 mila euro erano compresi il bonus il premio promozione e Zeman li vuole invece così li vuole puliti al netto dei eventuali bonus di premio promozione comunque se Zeman ha affrontato il viaggio è stato a pranzo poco fa con Sebastiani è venuto qui al Poggio dove tra poco si disputerà questa partitella con la squadra allievi dove da oggi tornano ad essere aperte le porte quindi arriveranno anche tanti tifosi se tutto questo viene fatto in pubblico è perché ormai praticamente ci siamo e va messo soltanto nero su bianco dopo l'ultima limata probabilmente accadrà già dopo questo pomeriggio nel corso della giornata quando poi i due si recherano immaginiamo nell'ufficio del presidente Sebastiani è stato un inizio settimana rapsodico per fare una battuta c'è una famosa canzone dei Queen Bohemian Rhapsody ed è stato un inizio settimana rapsodico con Oddo che era stato messo in discussione poi confermato poi esonerato e poi ieri la giornata con Zeman prima sembrava fatta o quasi fatta poi in serata Sebastiani aveva lanciato dei segnali negativi dicendo questa squadra non è tagliata per Zeman probabilmente se ne riparlerà per giugno e non da subito e invece questa mattina il colpo di scena Zeman ha detto subito sì ed è venuto a Pescara sono momenti convursi che stiamo seguendo con grande attenzione in attesa ormai dell'ufficialità ma l'ufficialità sostanzialmente l'abbiamo data facendo vedere Zeman al poggio degli olivi Già tanto Andrea che Zeman abbia detto qualcosa e questo la dice lunga sul fatto che a questo punto la trattativa si può dire già conclusa però evidentemente crediamo domenica prossima nella gara di campionato con il Gemma sarà forse Luciano Zauri a sedere in panchina Zeman dovrebbe iniziare la sua avventura o meno da un punto di vista proprio ufficiale dell'allenamento della squadra probabilmente da lunedì prossimo Guarda in questi giorni sono state sono state smentite anche notizie ufficiali io non me la sento a questo punto di dire se sarà effettivamente Luciano Zauri a guidare la squadra da qui fino alla gara col Genoa e se sarà lui a guidarla dalla panchina contro il Genoa può essere anche che lo stesso Zeman prenderà subito in mano la squadra e sarà lui in panchina oramai la certezza assoluta non ce l'abbiamo e ce l'avremo magari nelle prossime ore quando appunto la società comunicherà se Zeman effettivamente ha firmato come sarà ma soprattutto sarà alla guida della squadra già dalla partita con il Genoa Bene grazie Andrea Costantini allora possiamo andare a chiudere qui ringraziando anche Gianni e D'Areo per la preziosa collaborazione tecnica in diretta Sì Francesca Una curiosità il Presidente Sebastiani è arrivato al Poggio degli Olivi? Il Presidente Sebastiani era proprio con il tecnico Zeman sono escesi dalla stessa macchina e alla guida della macchina dell'auto c'era proprio il Presidente Sebastiani sono stati i primi due ad arrivare qui al Poggio degli Olivi seguiti da un'altra auto su cui si trovavano i due direttori del Pescara Luca Leone e Peppino Pavone ed il vice il collaboratore storico di Zeman Cangelosi dunque sono arrivati tutti sono qui e come potete vedere anche grazie alle immagini di Gianni e D'Areo le macchine dei direttori del Pescara sono posizionate nella parte alta qui del Poggio degli Olivi ripetiamo la notizia del giorno se è possibile se riesci da qui a quando noi finiremo ovviamente il Tg ad avere anche qualche dichiarazione del Presidente magari se riusciamo vedremo Francesca se sarà possibile anche perché il Presidente e Zeman come avete potuto vedere anche delle immagini hanno attraversato il campo centrale qui del Poggio degli Olivi si sono infilati negli spogliatoi perché stanno incontrando stanno salutando i giocatori quindi crediamo che per la fine del nostro Tg sarà possibile ovviamente se ci saranno delle interviste delle dichiarazioni le registreremo le manderemo in onda per i nostri telespettatori nell'edizione di questa sera delle 19 per il momento è tutto dunque in diretta dall'Appoggio degli Olivi di Marina di Città Sant'Angelo linea che può tornare a te grazie a Paolo Renzetti noi continuiamo il nostro Tg ora parliamo di Rigopiano dopo quasi un mese dalla tragedia ora si vanno a vedere quelli che sono i danni i danni economici di un territorio rimasto isolato e con le macerie è ancora una situazione difficile sotto tantissimi punti di vista proprio ieri il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta ha presentato la richiesta di una cassa integrazione per i 21 dipendenti del resort Rigopiano vediamo a quasi un mese dalla slavina che ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola causando la morte di 29 persone rimaste al suo interno Farindola è un comune che prosegue la conta dei danni sul territorio ma soprattutto che guarda il danno causato alle attività produttive come gli allevamenti e il turismo l'importante volano del territorio e così nella giornata di ieri il primo cittadino Ilario Lacchetta ha incontrato i lavoratori della società che gestiva il resort cuochi camerieri addetti di vario genere stagionali hanno perso tutto chi i propri cari chi i amici e anche il proprio posto di lavoro e così il sindaco ha fatto un appello rivolto agli imprenditori locali perché possano contribuire come possono al loro reintegro in altre attività intanto Lacchetta ha annunciato un consiglio straordinario in programma per la prossima settimana nel quale saranno invitati anche i parlamentari abruzzesi al fine di ottenere un aiuto per il comune di Farindola per ottenere il riconoscimento dei danni causati dal maltempo una situazione che ha messo il comune in grave difficoltà e dalla quale sarà difficile uscire ha spiegato il sindaco senza l'aiuto esterno proprio ieri è stato reso noto il dossier stilato dalla protezione civile e inviato a Bruxelles con la stima effettiva dei danni riportati dal centro Italia dopo le 53.000 scosse di terremoto registrate dal 24 agosto fino al 18 gennaio è di 23,5 miliardi l'ammontare dei danni l'1,4% del PIL del paese 3,2 miliardi invece i costi sostenuti dall'Italia per far fronte all'emergenza 500 milioni sono i danni apportati alle attività produttive all'agricoltura e dei danni del terremoto si continua a parlare anche a Teramo questa mattina a protestare c'erano i residenti delle otto palazzine dell'Ater di Colle Atterrato costretti a sfollare dopo il sisma del 30 ottobre scorso la polemica nasce dal fatto che gli immobili sono stati sgomberati per volere dell'Ater nonostante fossero stati classificati in categoria B e dunque con lesioni lievi e facilmente riparabili ma ad oggi nessun accomodo è stato effettuato dall'Ater e sono in tanti a vivere fuori casa e fra mille difficoltà Tania Bonisci Castelli sul piede di guerra i cittadini terramani delle otto palazzine Ater di Colle Atterrato dichiarate inagibili dopo il sisma del 30 ottobre i residenti ormai fuori casa da mesi hanno chiesto di incontrare la prossima settimana l'amministrazione comunale di Teramo e i rappresentanti dell'Ater per avere notizia sulle proprie abitazioni e per sapere quando potranno rientrare a vivere negli stabili la rabbia degli sfollati nasce dal fatto che gli immobili in questione sono stati classificati B dalla protezione civile il che significa lesioni di poco conto e facilmente riparabili e allora perché mandare via tanta gente tra cui anziani e malati perché nonostante le promesse del sindaco Brucchi di intimare all'Ater di riparare immediatamente i danni nulla sia stato ancora fatto intanto sono in molti che a Colle Atterrato hanno deciso di dormire a turno in macchina per scongiurare atti di sciacallaggio qualcuno nel frattempo è anche deceduto forse di crepacuore insomma è tempo di risposte e certezze e sempre a Teramo polemiche polemiche questa volta per la ripavimentazione di Corso San Giorgio preoccupazione da parte degli esercenti e soprattutto la richiesta di conoscere i motivi del ritardo di questi lavori vediamo i lavori di rifacimento del Corso San Giorgio di Teramo sono partiti un anno fa nel presentare il cronoprogramma l'amministrazione allora rassicurò la città che l'intervento si sarebbe svolto in tempi rapidissimi così non è stato furioso i commercianti che da subito hanno lamentato una lentezza esasperante da parte della ditta appaltatrice e poi ci si sono messi i ritrovamenti archeologici e la neve e insomma si passeggia ancora sul massetto e sui tombini a vista e non si vede la fine la neve non c'è più eppure i lavori sul corso non riprendono che succede? succede che stiamo aspettando la perissia di variante da parte del direttore dei lavori non sempre la politica si può sostituire ad altri ruoli che cos'è questa variante? la variante è perché nel fare tutti i lavori che vedete molti di questi lavori non erano previsti sul precedente diciamo progetto e quindi di conseguenza la ditta ha affrontato dei lavori diversi da quelli da progetto e quindi vanno valutati e pagati è una questione a me di giorni perché sto sollecitando appunto tutta questa documentazione e la pretendo e per il corso vecchio per il corso dei michetti? il corso dei michetti se prima qui non diamo una risposta concreta di pavimentazione e quindi di fruibilità di questo corso non parliamo di rompere altro se prima non sia giusto a questo ma perché non combattiamo un po' questa burocrazia? è una burocrazia che ci attanaglia ma non terra ma attanaglia il nostro stato il nostro sistema che purtroppo è fatto di documenti su documenti e purtroppo sono indispensabili per poter mandare avanti un lavoro del genere molte volte un progetto si inizia e per finirlo passano troppi anni il progetto di ripavimentazione del centro storico di Teramo riguardava anche il corso dei michetti si riguardava perché vista la difficoltà incontrata sul corso San Giorgio a causa dei ritrovamenti archeologici sarà molto improbabile intervenire nello stesso modo sul corso vecchio il prossimo 18 febbraio a scendere in piazza a Teramo saranno i vigili del fuoco abruzzesi dell'unione sindacale di base per dire basta al morire di disastri ambientali Paolo Renzetti è arrivato il momento di dire basta a quello che purtroppo vediamo ogni anno basta un alluvione una nevicata anche il terremoto a mettere in ginocchio regioni intere in particolare l'Abruzzo il nostro territorio oramai è in ginocchio sia da un punto di vista sociale ma soprattutto da un punto di vista infrastrutturale va rilanciato un piano di investimenti pubblici per mettere in sicurezza il territorio per cui Teramo sarà l'occasione per dire per gridare forte partendo dalla società civile il bisogno di invertire la lotta non possiamo immaginare non possiamo immaginare la crescita per questo paese se non si parte dalla messa in sicurezza del territorio ma soprattutto delle vite degli uomini e delle donne che questo territorio lo abitano un grido che arriva forte soprattutto dai vigili del fuoco quegli angeli della speranza che dopo i primi attimi hanno della strage di Rigopiano hanno salvato vite umane purtroppo hanno dovuto dopo tante ore di lavoro anche estrarre corpi senza vita ebbene quei vigili del fuoco sono i primi a dire che è arrivato il momento di invertire la rotta che il corpo di vigili del fuoco non può essere un corpo di precari non possono aspettare da anni il rinnovo del contratto nazionale ma che su quel corpo che è diciamo così il massimo dell'umanità che questo paese può vantare su quel corpo va ricostruito il nostro paese non possiamo lavorare sull'emergenza dobbiamo cominciare a prevenire a lanciare un piano strutturale di risorse per il nostro territorio un piano che non sia solo ed esclusivamente abruzzese o del centro Italia ma che coinvolga tutta l'Italia immobilismo sul problema della sicurezza delle scuole a lanciare la denuncia è il forzista Fabrizio Rapposelli ex vicepresidente della provincia di Pescara che punta il dito proprio sull'attuale presidente di Marco vediamo apriamo il giornale e leggiamo che il presidente della provincia di Teramo di Sabatino giustamente chiama a raccolta i 40 sindaci del suo territorio e minaccia marce su Roma per chiedere legittimamente una valanga di soldi proprio per le questioni idrogeologiche per gli smottamenti per le frane per le scuole per le scuole per quello che stanno subendo i cittadini della provincia di Teramo noi qui assistiamo a un immobilismo totale a un silenzio totale quando il presidente di Marco oggi dovrebbe cogliere la palla al balzo proprio lui che è il presidente dell'UPI Abruzzo Unione Provincia Italiana Abruzzo e dovrebbe essere lui il portavoce di tutti i presidenti della regione Abruzzo proprio per i disagi che i cittadini hanno avuto e stanno avendo non possiamo dire poi dopo che non abbiamo i fondi per pulire le strade non possiamo dire poi dopo che non abbiamo i fondi per mettere a posto una turbina da 20 mila euro non possiamo dire poi dopo che non abbiamo i soldi per l'edilizia scolastica l'edilizia scolastica oggi versa in uno stato di grande difficoltà basta guardare quello che è accaduto a Villa Redice e Pagatti dove i ragazzi sono stati trasferiti presso il centro agroalimentare io credo che oggi ci serva veramente una carriola di fondi pubblici per poter anche fare tutte le verifiche sismiche del caso per i nostri edifici scolastici per metterli in sicurezza per dotare tutti gli edifici scolastici dei CP che sono i certificati di prevenzione incendi cosa che invece oggi non sta accadendo allora se questo non è il momento propizio per battere i pugni sul tavolo ed eventualmente per riconsegnare una fascia azzurra a Roma io mi chiedo quale altra occasione stiamo aspettando correlazione tra malattie da stress e cardiopatie se ne è parlato questa mattina in un convegno all'ospedale di Pescara si parla di stress e cardiopatie dottor Di Berardino c'è un collegamento abbastanza forte tra queste due problematiche guardi la risposta diciamo che è abbastanza semplice perché appartiene un po' alla tradizione popolare di attribuire al cuore una funzione molto legata alle emozioni per cui lo stress agisce prevalentemente con reazioni emotive negative questo carico di emotività negativa incide sulla funzionalità del cuore e quindi può compromettere la funzionalità con le conseguenze che sappiamo noi più cerchiamo di controllare le emozioni evitandole e più ne siamo vittime e io penso che la gente debba imparare a interagire in maniera consapevole con le emozioni e questo significa stare più aderente a se stessi al sentire più che a ragionare c'è un eccesso di razionalità in questa società tecnologica spesso dimentichiamo il rapporto all'intimo con noi stessi che è invece fondamentale per controllare le emozioni da un punto di vista invece sanitario e medico ci sono delle terapie delle cure delle medicine che possono diciamo far fronte a queste problematiche con questa sperimentazione vogliamo dimostrare che è possibile lavorare sulla prevenzione quindi evitare più possibile la cronicità che spesso accompagna una terapia farmacologica che pur essendo importante però si è accompagnata da un training in cui come noi abbiamo fatto aiutiamo le persone a stare meglio con se stesse attraverso la consapevolezza questo può aiutare a ridurre gli effetti dello stress e quindi produrre un aiuto anche in più perché riduce l'utilizzo del farmaco e allora l'abbiamo visto Zenec Zeman è di nuovo a Pescara e sarà lui a guidare il Pescara per la fine di questo campionato e per il prossimo abbiamo ricostruito le ultime 24 ore con Jacopo Furcelli l'era l'era Zeman a Pescara è già di fatto iniziata in mattinata la svolta in casa Biancazzurra dopo l'esonero di oddo di martedì pomeriggio è stato un tira e molla ma non troppo lungo quello col boemo che stamattina ha detto anzi ridetto sì al delfino e già nel primo pomeriggio sarà nel capoluogo adriatico per firmare il contratto che lo legherà ai colori biancazzurri fino al 2018 dunque un'esperienza breve in questa parte restante di stagione provando a valorizzare i giovani della cantera biancazzurra per poi tuffarsi nel mercato estivo e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione il boemo si era preso una notte per decidere con le voci che confermavano il suo sì all'inizio ma solamente a partire da giugno invece probabilmente quel legame mai sopito con la piazza che nel 2012 riportò nella massima serie e quel continuo cercarsi anche nell'estate 2015 prima della fumata nera hanno avuto la meglio dunque Zeman torna sulla panchina del Pescara e già i tifosi che l'avevano acclamato nelle ultime settimane sono in fermento per il ritorno di un tecnico in grado di valorizzare al meglio il potenziale umano a sua disposizione la vera novità è proprio la durata del contratto perché abituato ad accordi annuali stavolta il legame sarà per 18 mesi ma era impossibile pensare che prendessi un Pescara ultimo e a meno treci della salvezza solo per pochi mesi con Zeman inizia un progetto che nelle intenzioni del presidente Daniele Sebastiani che lo ha rivoluto fortemente debba riportare presto il delfino ai fasti di qualche anno fa ci sarà di certo curiosità per capire come il tecnico boemo valuterà gli uomini di una rosa che nel mercato di gennaio ha innalzato di molto l'età media non proprio il massimo per Zeman che se per qualche mese dovrà fare di necessità virtù da giugno in poi potrà scegliersi le pedine che riterrà opportune per provare ancora una volta a costruire quella giostra meravigliosa che alla città di Pescara ha regalato un gioco e delle vittorie davvero impossibili da dimenticare è tutto per questa edizione il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 torna questa sera nell'edizione delle 19 grazie per essere stati con noi grazie per aver guardato il nostro